Quando Luigi Di Maio dice che ha salvato i soldi, ha trovato i soldi, diceva non per i re ma per le banche, voi dovete sapere che i soldi che salveranno eventualmente la banca di Genova vengono presi proprio da quel fondo che aveva criticato. Sono parte di quel fondo. Quindi voglio dire, c'è una situazione già questa che spiega, no? Per quanto riguarda Renzi, e penso che questo sia importante anche perché l'argomento di Renzi sarà sicuramente preso da una parte del PD. Renzi ha ragione e ha torto, nel senso che sicuramente fa bene a dire voi state facendo la stessa cosa che abbiamo fatto noi, cioè salvare le banche. Però è anche vero che, secondo me, la questione di Renzi si era colorita di politica e familismo. Un sospetto, la storia appunto della Maria Elena Boschi e un po' di tutti i papà che continuavano a agire in un certo giro delle banche salvate su cui in effetti ci sono stati dei sospetti, come dicevo, che non sono stati mai davvero risolti ed affrontati. Per esempio, Maria Elena Boschi c'era o non c'era nel famoso CDM consiglio dei ministri? Lei dice, mi sono alzata prima della decisione. Esatto, però quello già... Allora, da un certo punto, poi il salvataggio dell'MPS eccetera eccetera era sicuramente un salvataggio di una banca molto importante che però era politicamente sempre stata molto vicina al sistema di potere del PD. Detto questo, torti e ragioni, è anche vero che rimane il punto di fondo che oggi al governo, il Movimento 5 Stelle, hanno fatto un'operazione che hanno criticato come un'operazione che non si doveva mai fare. E questa è un po' la metafora anche di quello che sta succedendo all'M5S cioè, sì, quando non siete al governo potete accendere tutti i fuochi quando arrivate lì e dovete governare c'è la dura realtà. Secondo me hanno fatto bene a salvare però dovranno sicuramente aggiustare il loro tiro su che cosa significa gestire le banche. È certo, è certo.